Campania che potrebbe prepararsi a trascorrere, secondo le ultime dichiarazioni del governatore De Luca, gli ultimi giorni in zona rossa, così anche a Torre del Greco, che è ormai da più di 30 giorni relegata al regime più restrittivo delle fasce per il contenimento della pandemia da Covid-19. Le giornate miti e primaverili delle scorse settimane avevano senz'altro favorito l'incremento delle persone in strada che si accalcavano all'esterno di barre nelle piazze del centro cittadino. Controlli che seppur presenti erano pochi e disseminati non in maniera equa sul territorio, lasciando numerose zone franche. Una zona rossa che non poteva far altro che tramutarsi in un mero pensiero del tutto astratto. In città il dato dei contagi sembra essere contenuto e non preoccupante. Da ormai qualche settimana il numero dei positivi ammonta 598, 525 dei quali in isolamento domiciliare. Stamane Torre del Greco appariva pressoché deserta con le strade principali del centro cittadino e contavano poche decine di pedoni. Causa di tutto ciò, forse, non un improvviso risveglio delle coscienze dei torresi ma bensì le condizioni meteorologiche avverse, dando così, forse involontariamente dimostrazione di una zona russa.